5 cose da sapere prima di affidarsi a un consulente finanziario indipendente. 1. Verificate che effettivamente sia abilitato alla professione. Infatti ogni consulente deve essere abilitato all'apposito albo. Potete verificare questa informazione sul sito www.organismocf.it 2. Per legge il consulente finanziario indipendente non può detenere il vostro denaro. Pena radiazione. Se venite avvicinati o trovate sul web un sedicente consulente che vi promette rendimenti stellari ma vi chiede di inviargli il vostro denaro, state nella larga. 3. Il consulente finanziario indipendente, a differenza del consulente che lavora per una rete o per una banca, non guadagna dai prodotti che vi consiglia. Il suo guadagno è legato esclusivamente alla parcella che gli pagate. Infatti uno dei requisiti per essere scritto in albo è la totale indipendenza da chi emette prodotti finanziari. Questo per poter garantire la totale assenza di conflitto di interessi. 4. Non avendo legami con gli emittenti di prodotti finanziari possono consigliare tutta la gamma degli strumenti presenti sul mercato, diversificati per tipologia ed emittenti, al fine di poter soddisfare gli obiettivi di investimento del cliente. 5. Il consulente finanziario indipendente non si occupa solo della componente legata agli investimenti ma offre un servizio a 360 gradi che riguarda anche la parte assicurativa e previdenziale.